Sorelle e fratelli, per attingere ad un simbolo e ad un'espressione della Bibbia, possiamo dire stamattina che questa messa è immagine del fiume Giordano, è immagine di quel popolo che va spontaneamente verso le acque del Giordano, dove Giovanni Battista è pronto ad accogliere la penitenza di un popolo, di un popolo che attende il Signore e Giovanni Battista si pone come sparti acque tra l'Antico e il Nuovo Testamento, si pone però in quelle acque del Giordano con la coscienza lucida, dichiarata, espressa ad alta voce che egli non è il Cristo e che il suo battesimo non è il battesimo del Cristo, è soltanto un battesimo di penitenza, dice con chiarezza colui che viene dopo di me, che era prima di me e più grande di me e io non sono degno neanche di chinarmi per sciogliere i lacci dei suoi sandali. L'umiltà di Giovanni Battista è la coscienza che lui è, come dirà poi il Signore, una lambada che arde e risplende. Come dirà Giovanni nella profondità del mistero teologico, egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Con questa coscienza Giovanni accoglie il popolo che ha sempre bisogno di purificazione. Anche noi, sorelle e fratelli, abbiamo bisogno dinanzi al Signore di purificare la nostra vita, di purificare la nostra coscienza, di purificare il nostro cuore. Non potremmo fare festa, non potremmo avvicinarci alla santità di Giovanni Battista se dentro di noi portiamo la divisione, l'odio, il rancore, se non abbiamo fatto quanto era umanamente possibile per preparare la strada al Signore. E questa coscienza di purificazione deve essere anche nei giorni, e direi soprattutto, nei giorni della nostra festa. Purificare le idee, purificare il cuore, togliere tutto ciò che è d'ingombro alla venuta del Signore. E come quando lungo la strada c'è l'immondizia ci sono i cumuli di cose che non servono, chi deve passare non può passare. E qualche volta questo ingombro c'è anche nella nostra vita. E il Signore rimane fuori. E Giovanni continua a gridare nel deserto di una vita che tante volte fa fatica ad essere purificata, perché abbiamo deciso che non vogliamo cambiare vita. E mentre Giovanni sta battezzando, sta invitando il popolo alla conversione, freme dentro di lui, perché a un certo punto vede venire il figlio di Dio. E Giovanni diventa un indice. Ecco l'agnello del Signore, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Solo fra tutti i profeti ha avuto questo combito, bellissimo, misterioso, atteso da secoli, indicare l'agnello di Dio. Ecce agnus dei, ecce quitollis, peccata mundi. La Chiesa ha posto questo grido di Giovanni nel cuore dell'Eucaristia. E Giovanni è un indice. Ecco l'agnello di Dio. A noi questa parola qualche volta non dice niente. Ma al popolo di Israele, che conosceva chi era l'agnello, che cos'era l'agnello, che conosceva l'esodo, la strada della difficoltà, che conosceva la notte in cui l'agnello fu sgozzato per salvare il popolo, che conosceva benissimo la scrittura, quando Giovanni dice con l'indice pundato, ecco l'agnello di Dio, il popolo freme, perché ha compreso che è arrivato il tempo della purificazione vera. E Giovanni sa che lui non può batteggiare il Signore, perché Gesù non ha bisogno del battesimo. Egli è il figlio umanato di Dio, il figlio che ha assunto tutto dell'uomo, eccetto il peccato. Giovanni che è profeta, ed è profeta dal grembo materno, ed è luce che deve illuminare la strada a colui che viene, conosce bene chi è il verbo di Dio. ecco l'agnello di Dio. Gesù però dice a Giovanni che ha questa coscienza sono io che devo essere battezzato da te, lascia fare dice il Signore, fa che si combia ogni giustizia. Gesù che si è fatto uomo nel grembo di Maria, che è diventato bambino ora in fila con tutti i peccatori. Non perché lui sia peccatore, ma perché deve salvare i peccatori. L'umiltà di Dio scende fino a condividere questa angoscia, in fila con i peccatori. Egli però non è il peccatore, egli è l'agnello che dà la vita per ognuno di noi. E Giovanni lo sa, e Giovanni è cosciente, e allora battezzando il Signore purifica le acque del Giordano e dà al battesimo una valenza indiscussa e profetica. Ma Gesù dirà c'è un altro battesimo che io devo ricevere. E come sono angosciato fino a quando ciò non sia avvenuto. Il battesimo di Gesù avverrà sulla croce, quando darà per ognuno di noi sangue ed acqua. Da quel mistero nasce, sorelle e fratelli, la nostra vita cristiana. Ognuno di noi ha ricevuto il dono del battesimo. Ringraziamo il Signore, ringraziamo i genitori, ringraziamo i parroci o quel povero prete che ci ha fatto nascere cristiani. E come direbbe Ignazio Silone, in quel povero battistero, chissà dove, chissà quando, ma noi lo sappiamo, è nata la nostra povera esperienza cristiana, è nata felicemente la nostra vita cristiana. Recuperiamo il dono del battesimo. Nel battesimo siamo diventati figli di Dio, adottivi. Vorrei dire ai giovani che il titolo più bello, il titolo più grande che ognuno di noi può avere, sono cristiano, sono di Cristo. E Giovanni stamattina ci ricorda la bellezza di tutto questo e ci ricorda l'importanza del nome. Il Vangelo è tutto giocato stamattina su questa scelta del nome. Zaccaria, che non aveva creduto, non parla, è muto, si fa dare una tavoletta e scrive Giovanni è il suo nome. Sorelle e fratelli, quando scegliamo il nome dei nostri bambini e diventa a volte come un gioco, come un incontro, a capire perché quel nome. Se porta il nome di una persona cara, di un papà, di una mamma, di un nonno, di un santo, qualche volta vengono fuori dei nomi che di cristiano non hanno proprio niente. Dobbiamo recuperare anche questo nella nostra tradizione cristiana. Giovanni è il suo nome, perché quel nome dice tutto una vocazione. Giovanni significa è grazia di Dio, è dono di Dio. Recuperiamo tutto questo, perché il battesimo è la porta dei sacramenti. Nel battesimo abbiamo ricevuto il grande dono della fede. E la questione di oggi, di questa crisi che noi stiamo vivendo, non è solo economica, è morale, è spirituale. La grande questio che dobbiamo porre di nuovo sul tavolo è la questio fidei, la questione della fede, se crediamo o non crediamo, se questo nostro incontro è soltanto sociologia o semplice devozionismo, se è magia o è fede. Questo è il compito che noi dobbiamo assumere per le nuove generazioni, carissimi giovani. Dobbiamo trasmettervi la fede, il dono della fede, non le nostre idee, non le nostre sciocchezze, non i nostri punti di vista, non ciò che noi tante volte abbiamo inguinato, ma la fede, quella fede che viene direttamente dal Signore, quella fede che passa attraverso la comunicazione dei sacramenti, quella fede alimentata nella parola, quella fede che cresce nella testimonianza dei sandi. E questo è il compito, trasmettere la fede alle nuove generazioni, sapendo che noi non siamo il Cristo, ma dobbiamo preparare la strada, sapendo che il nostro grido, il grido della Chiesa oggi, è come il grido nel deserto, è come il grido di Giovanni Battista, ma dobbiamo anche sapere che testimoniare il Cristo significa dare la vita, significa morire come il Signore. Ecco sorelle e fratelli, a voi che vi preparate alla festa l'immagine di Giovanni Battista. Chi era Giovanni Battista? Lo diciamo con le parole del Signore. Egli era una lambada che arde e risplente, e voi solo per un po' di tempo vi siete riscaldati, illuminati a quella lambada, che ognuno di noi diventi una lambada che arda e risplenta. che Giovanni Battista ci dia questa coscienza, lucida, chiara, forte, profonda, noi non siamo il Cristo. La Chiesa non è il Cristo, ma la Chiesa prepara la strada al Signore, perché sempre, Egli deve crescere, noi dobbiamo diminuire. Amen. Alleluia. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.